E' nel suo slogan Italian Beauty Excellence che Nica, azienda che porta l'eccellenza italiana nei saloni di tutto il mondo, racchiude il suo successo. Sappiamo benissimo che le donne hanno dei capelli straordinari e vogliono essere sempre più belle ogni giorno della loro vita. La nostra azienda cura proprio questo aspetto, rendendo e portando la bellezza della donna in un livello successivo. Io sono responsabile marketing e porto il marketing nei saloni d'Italia e del mondo, però quello che teniamo di più a portare, quello che le consumatrici finali sentono e vedono e provano concretamente è il prodotto stesso, perché è il prodotto che alla fine fa la differenza ed è questo prodotto su cui noi puntiamo e che portiamo all'eccellenza, come dice il marchio Beauty Excellence. E' sicuramente un prodotto eccellente, quello presentato in anteprima a Cosmoprof 2012, Feiery Silk. Con Nica qui al Cosmoprof facciamo il debutto per la prima volta in anteprima dove presentiamo tutte le nostre novità. La prima novità come potete scoprire dal nostro sito internet, dai nostri cataloghi che potete scaricare dai nostri video su YouTube, noi offriamo il liscio sublime effetto seta per oltre tre mesi e lo slogan di questa azienda non è altro che portare il liscio sublime e portare la bellezza delle donne ad un alto livello. Per utilizzare e conoscere al meglio questa gamma di prodotti, Nica offre ai parrucchieri dei corsi di formazione tenuti da un suo team di esperti. Noi siamo un gruppo che stiamo lavorando nel mondo dell'amino bond complex, un complesso di amminoacidi e aiutiamo centinaia e centinaia di parrucchieri a conoscere i nostri servizi. I nostri servizi sono basati sulla ricostruzione, la bellezza del capello, dove l'amino bond complex serve solo e esclusivamente a far sì che il capello diventi liscio, vellutato, setoso come la seta. Noi oggi abbiamo due servizi punta che è liscio sublime effetto seta e poi discipline. Questi servizi faranno parte con altri servizi della base del nostro lavoro di tutti i giorni. Siamo fieri a presentarli a tutti i parrucchieri perché vogliamo che il nostro lavoro arrivi a tutti i parrucchieri per far capire l'importanza e l'impegno che ci mettiamo tutti i giorni per far conoscere i nostri servizi e il nostro lavoro. Questo è quello che facciamo. Tra i corsi più validi quello di parrucchiere manager tenuto a Roma da Luca Picchio. Alla base del successo? L'entusiasmo. Ciao, io sono Luca Picchio e sono un tuo collega. Sono un parrucchiere e ho un'attività nel centro di Roma. Attualmente ho un gruppo con 23 collaboratori e quello che posso dirti è che stiamo ottenendo risultati straripanti anche nell'inverno economico. Le nostre fondamenta sono basate tutte sull'entusiasmo. Quindi quello che noi abbiamo come principio è che ogni cliente che entra nel nostro salone vuole ricevere energia. Quindi oltre a farsi i capelli vuole stare bene, vuole sentirsi bene. E questo è quello che noi facciamo. Lo facciamo da 26 anni. Quindi abbiamo scalato la vetta e ottenendo risultati enormi, risultati piccoli, risultati enormi, risultati piccoli abbiamo finalmente individuato qual è l'identikit del parrucchiere vincente. E questo è quello che facciamo nei corsi del parrucchiere manager. Quindi quello che posso dirti è vai su www.parrucchieremanager.com e vieni a trovarci così vedrai quello che noi facciamo. Quello che noi facciamo è veramente le due o tre cose distillate che insegneranno al parrucchiere a diventare più bravo, avere un dream team, quindi una squadra vincente, e fare più clienti e incassare di più. Quindi se tu vuoi ottenere risultati più grandi rispetto a quelli che hai ottenuto fino a oggi, vieni a passare un giorno con noi. E quello che ti prometto è che raddoppierai i tuoi numeri nel giro di un anno. Per quale motivo? Perché l'abbiamo fatto e conosciamo cosa deve essere fatto, quali sono le scorciatoie, quindi possiamo sicuramente aiutarti. Sai qual è il primo principio della maestria? Imitare ciò che funziona già. Io credo che tu sicuramente potrai raggiungere il successo anche da solo, ma forse magari ci vorranno vent'anni, trent'anni. Invece quello che possiamo dirti è che già l'abbiamo trovato, abbiamo una ricetta che ti consentirà di arrivare velocemente al successo, ad essere il leader in questo settore, quindi nel mondo dei parrucchieri, ad essere il leader nella tua città. Vieni con noi e ti assicuriamo grandi, grandi risultati. Ciao! Ciao! Ciao!